ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di mio piccolo che è un'azienda dove comunque vende all'ingrosso corredino per l'infanzia vi mostro adesso che cosa ha ricevuto per il piccolo giulio allora partiamo subito da questo accappatoio che come potete vedere è un prodotto italiano ed è prodotto artigianale è in morbida spugna e anche puro cotone tutto made in italy davvero ben fatto poi qui abbiamo questa copertina in cotone ed è abbastanza leggera appunto per la primavera estate da mettere in culla questa copertina davvero grande azzurrina davvero molto molto bella e carina con questo orsacchiotto i palloncini sempre firmato mio piccolo hanno davvero dei prodotti di ottima qualità infatti si vede già nel tessuto poi qui abbiamo questo bavaglino con scritto love mamma davvero molto bello e infine qui abbiamo questa scatola all'intimo che coccola il tuo bambino dove all'interno troviamo sei bodi di cotone misura sei mesi e sono a maniche corte allora abbiamo due di questa fantasia con l'orsetto con il cappello e il cravattino poi qui abbiamo queste altre due fantasie con gli orsetti semplici azzurro e marroncino e poi qua c'è l'orsetto centrale e qua altre due che sono con il drago davvero molto carino e sono due bodi a maniche corte sono perfetti adesso che arriva comunque la primavera e l'estate quindi sono prodotti di ottima qualità tutto made in italy 100% cotone vi consiglio di contattare il vostro negoziante di fiducia dove comunque stavolta potranno contattare questa azienda per potersi far mandare questi prodotti che sono davvero bellissimi e di ottima qualità ringrazio ancora l'azienda mio piccolo per tutti questi prodotti per il mio piccolo giulio grazie ancora ciao 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 ciao